Domani al contado del Molise torna il consueto raduno annuale dedicato alle razze meridionali da lavoro. La manifestazione sarà non competitiva e a numero limitato con invito. Il dottor Flavio Bruno, coordinatore del centro di Santa Croce di Magliano, come sempre ha organizzato un evento per i professionisti del settore, ma anche per i semplici, curiosi e appassionati. Durante la giornata è previsto un convegno e la visita del centro che conta il Canecorso, il Mastino Napoletano, Mastino Abruzzese e Volpino Italiano. Una domenica dedicata ai nostri amici a quattro zampe per conoscere meglio la loro storia e sapere come prendersi cura di loro. Un progetto che punta sulla cultura zootecnica nell'ambito del cosiddetto turismo cinofilo. La manifestazione sarà anche un'occasione per promuovere il patrimonio artistico-culturale del paese e per valorizzare la genuinità dei prodotti tipici.